Allora oggi siamo qua alle prese con un telecomando 433 MHz termosensor telecomando qua non è un telecomando questo è un sensore termico, qua comparato grave anzi io nello smontare guardate cosa è successo si è tutto scotto tutto scotto comunque guardate cosa c'è qua dentro un macello vediamo qua come dobbiamo ripristinare ora questo te la comandi questo è sensore vediamo un po' la salazione è molto critica è molto critica vediamo un po' anzi qua vedete qua noi abbiamo dove vedete abbiamo questo sensore qua aspettate vedete questa è una ntc una ntc la saldata del circuito l'ho dovuta staccare per togliere questo ok che modello che apparecchio è questo qua è IW che apparecchio è questo ecco qua è ok andiamo a noi vediamo un po' come crea la salazione la salazione è molto critica perciò cominciamo a pulire da dove partiamo qua c'è un poco di ossero allora come facciamo prendiamo non trovo una boccettina per mettere un poco di questo vediamo senza sporcarlo se riusciamo a prendere un poco di tre triaglione e cominciamo a pulire questione anche questo mi sono messo la carta di sotto per non spoccare e questi poi la tolgo questo posto prima che se ne fai mamma ecco cemento armato cemento armato vediamo come cretiamo qua ecco è ora passiamo da questo lato questo succede quando vengono lasciate le batterie qua dentro questo succede quando vengono lasciate le batterie qua dentro vi fate guardare qua con la lampada che non tanto si vede mi spiazziamo un po po di alcol vediamo cosa succede vediamo un po', vediamo un po' questo è un circuito a radiofrequenza, non è un infrarosso circuito a radiofrequenza, 430 MHz qua dice, guarda che ho letto 433 MHz e questo è tipo il radiocomandi dei cancelli, è positivo allora sto tentando di pulire il circuito, togliere quel poco di ossido che c'è, recuperare un attimo pare che c'era una molla c'era una molla, la spirale del negativo delle batterie allora andiamo a noi, andiamo a noi, andiamo a noi aspetta, queste dobbiamo in mezzo alle batterie, allora ora dobbiamo fare una cosa qua dobbiamo fare una cosa, allora qua abbiamo, vediamo vediamo un po' se riusciamo ad allaggare a qua, passò se riusciamo ad allaggare ora dovremmo cercare una molla, vediamo in tutte queste cose se troviamo non capire, sapete che qua ho trovato ho trovato qualcosa ho trovato qualcosa, però voi qua come, come lo, entra questo andrebbe così no, questo andrebbe così e così comunque vediamo vediamo va bene qua è questo qua, se vediamo dobbiamo aspettate che qua forse ho trovato una mezza soluzione ho trovato una mezza soluzione vediamo se riesco a farlo entrare qua dentro ecco qua entrate ragazzi ragazzi entrate vediamo se ora riusciamo noi vediamo da dove la devo prendere qua per premere un pochino senza fare danno uno ecco qua c'è da pulire questo invece c'è da pulire questo vediamo come allora qui ce la mettiamo su questo aspettù vediamo vediamo ciao 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 vediamo un po ora per esempio voi quando fate una riparazione di una qualsiasi cosa dovete far notare al cliente perché visto che il cliente non capisce niente di elettronica non capisce quello che fate voi di elettronica però nota se voi siete puliti nel vostro lavoro e allora vi dovete fare notare che a qualsiasi cosa voi avete in mano gli date una bella pulitina per esempio vedete quella sporcizia c'è specialmente se poi il cliente è vicino a voi che vi guarda e allora voi cosa dovete fare dovete batterlo sul proprio campo il campo dei clienti qual è? quello dell'ignoranza dei circuiti elettronici e allora cos'è che apprezzano e guardano di più perché quando fate una riparazione il cliente non capisce niente di quello che state facendo cioè è perso però facendo le operazioni di pulizia al telecomando questo lo capiscono e apprezzano vedono vedono che voi siete dei radiotecnici bravi ma perché vedono vedono che voi siete lavorati in un modo pulito ok? e allora andiamo a noi ora alcol normale alcol non lo so qua lo chiamiamo anche spirito non lo so se voi capite che significa spirito ma comunque alcol denaturato quel pezzettino che si è rotto poco nello smontare poi vediamo se con la stampante 3d riesco a fare qualche cosa se no glielo lascio in quel modo lì glielo dico è nascotto e si è rotto appena io l'ho aperto ma qua usciva sto coso ok vedete che sporcizia io l'ho messo da parte invece lo devo uscire sto coso per adesso lo lasciamo di fuori per adesso lo lasciamo di fuori un altro pezzettino un altro pezzettino questo lo puliamo bello pulito oddio lo potremmo fare pure dopo una volta inserito nel circolo questo è sicuramente questo termomando questo termomando questo sensore è da molto tempo che non si può utilizzare che non si può usare sicuramente allora sicuramente comunque a dove possiamo arrivare arriviamo ok qua da questo lato sembra bene sembra pulito allora andiamo un po' qua c'era questa altra esatazione qua c'è qua c'è pure il display il display che cos'è qua una graffiatina che cavolo è questa cosa qua c'è qua c'è bu non lo so che cos'è questa cosa qua io cretto ma le sporcizie bu che cosa devo grattare io qua come si è formata questa cosa qua come si è formata questa cosa qua come si è formata questa cosa qua allora se noi ci andiamo ancora un poco di alcol che succede vediamo è che non mi è andato male adesso qua su non è andato non mi è andato la libera io non lo so se sto sbagliando io grattare così perché qua anzi capisci manca che cos'è questa cosa non mi è andato io sto pulendo ma guarda se non mi accende sto perdendo pure tempo ok ragazzi io mi togliere questa sporcizza di sotto perché sennò va a finire che io me la metto tutta nelle mani togliamo stai allora perché l'ho messo su questo proprio per fare il suo lavoro ok vediamo un po' questa situazione perciò qua guarda questo dovrebbe essere così allora se dovrebbe essere così questo qui dovrebbe essere così giusto dovrebbe essere così giusto così allora prima di prima di così dobbiamo mettere questo questo come così così questo tentiamo di non fare rompere sto cosa perché sennò dopo tutto il tempo che abbiamo preso poi allora e ne ho ok e ne abbiamo uno e ne abbiamo uno siamo arrivati ora perciò praticamente questo si deve fare invece al contrario perché al contrario perché noi dobbiamo saldare il sensore oddio dovremmo prima provarlo ma voglio essere fiducioso voglio essere fiducioso questa sarà una NTC sicuramente voglio essere fiducioso no? allora allora volendo essere fiducioso ce ne andiamo alla terra che questo cosa dovrebbe funzionare giusto? a proposito attacchiamo il saldatore attacchiamo il saldatore attacchiamo il saldatore allora allora eh ragazze 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 che me lo doveva dire a me che nella vecchiaia dovevo fare questi video ma ma fino a che campiamo impariamo sempre imparare vi pare che io perché tento di farvi di dimostrare di dimostrare a voi qualcosa faccio l'insegnante e io cerco di imparare vuole dire perché la vecchia aveva cent'anni e sempre imparava questo è il detto la vecchia aveva cent'anni e sempre imparava allora saldatore forse saldiamo qua che passa il tempo vabbè poi poi vediamo allora andiamo a noi saldiamo ora ora vediamo oh vediamo un po' vediamo un po' fatto? ebbene va ora andiamo a noi questo dovrebbe essere così ora facciamolo entrare senza rompere niente qua vediamo qua dobbiamo perdere il lavoro fatto ecco perfetto perfetto sì ora vediamo comunque poi vediamo per adesso proviamo e cosa la batteria che qua il stilo ci vogliono eh il stilo ci vogliono ok uno e una due il signore che ce ne manda è buono una due ora il display non accende niente prendiamo lo strumento il nostro benedetto tester oggi abbiamo due tester qua ne abbiamo uno vediamo e questo come funziona qua ah già funziona funziona non è non è non è nulla qua aspettate 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 vediamo qua se capiamo vediamo ah manda un segnale forse ogni 10 secondi eh ora ci siamo avete visto prendiamo queste quelle che ho fatto io vediamo che succede vediamo cosa succede vediamo cosa succede l'avete visto? e abbiamo capito come funziona il circuito avete visto? il circuito allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici ogni dieci secondi manda un segnale a qualche ricevente ok però 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 funziona solo da trasmettatore sto coso o anche da ricevitore e allo stesso tempo poi riceve qualche segnale comunque dovrei approfondire non è che mi interessa tanto arrivato a questo punto approfondire di che cosa si tratta non si tratta eh come funziona l'importante è che abbiamo ripristinato il circuito ok qua poi abbiamo i canali uno due e tre perciò abbiamo visto che ogni dieci secondi manda un segnale a qualche ricevente l'avete visto? pare che funziona ora ora c'è da fare allora togliamo tracce di cotone ok chiudiamo qua o lo lasciamo così che forse è la migliore soluzione o se no mi devo mettere a uscire pazzo a fare un disegno e prima di fare il disegno stamparlo eh con la stampante 3d se no sai cosa possiamo fare guarda possiamo fare un'altra cosa la incolliamo eh la incolliamo guarda forse manco c'è il bisogno di incollarla guarda manco c'è il bisogno di incollarla qua che c'era queste pezzettine qua qua c'era un altro pezzettino vediamo un altro pezzettino questo deve dovere da qua questo deve dovere da qua qua questa era da qua lo dovevamo entrare prima questo forse ah si ma lasciamo lo prendere non è che non è che poi sì sicuramente questa la dovevamo entrare molto prima aspetta 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 ecco qua ecco qua abbiamo risolto il problema bene ora sai cosa possiamo fare possiamo fare che mettiamo dello scotch e così ce ne usciamo alla partia perché se noi perdiamo un sacco di tempo poi quanto che deve costare al cliente beh dobbiamo pulire sempre allora 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 vediamo vediamo eh 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 allora qua facciamo così e così uno e uno a due qua facciamo qua ebbene diciamo diciamo che allora facciamo una cosa vediamo se io prendo qua dentro e faccio così e faccio così e poi tolgo la batteria la metto qua dentro e poi rimetto la batteria risolvo un altro problema ma aspettate ragazzi non è qua allora visto che mi trovo a portata di mano un uno spray rimuove etichette anche perché avendo il negozio lo vendevo io mi pare che facendo questa prova io riuscivo a pulire il telecomando questo qua servirebbe rimuove etichette per pulire tracce di adesivo che lascia il nastro isolante lo scotch allora però io mi ricordo che ora se lo provo facciamo un'altra prova avevo del del silicone spray vediamo se lo trovo allora io a volte molto spesso quando avevo il negozio e facevo questa riparazione dei telecomandi io facevo pure che facciamo utilizziamo sempre lo stesso niente poi lo sporchiamo lo lasciamo prendiamo un altro pezzettino un altro per farlo diventare un po' lucido gli mettevo pure questo qui questi li vendevo io grasso al silicone non so se forse ancora me ne sono rimaste queste e allora con questo qua diventa bello pulito lucido ecco già nelle mani lo sento bello liscio senza punto vedi già nelle mani lo sento bello pulito sembra pulito ok ok tutto a posto allora accendiamo di nuovo vediamo se manda questo segnale si si comunque questo questa riparazione non era molto difficile c'era solo da pulire il circuito va bene il circuito funziona 433 MHz ogni 10 secondi ok possiamo pure spegnere e salutarci ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale mettete e mettete like condividete fate in modo che gli altri appassionati di elettronica possono guardare questi video perché a volte qualcuno per puro caso trova trova questi video per puro caso dicono eh a me mi fa piacere che sono utile a qualcuno ok ciao ragazzi ci vediamo al prossimo giro vediamo perché qua io sono pure leggermente incasenato incasenato perché per fare i video ci vuole pure la mente serena e se poi esternamente se ci sono altri problemi esterni la mente non è serena e non mi viene ma un po' voglia di fare un video ok ragazzi vi saluto ciao a tutti